Una piccola premessa su cosa è la street photography o fotografia di strada, come si dice in italiano. Letteralmente è il fotografare le persone che troviamo in mezzo alla strada, quindi la caratteristica principale è quella di cercare, naturalmente soggetti interessanti, di cercare di fotografarli il più spontaneamente possibile, quindi senza farsi vedere, senza che se ne accorgano, proprio perché perderebbero spontaneità. Un'altra premessa è che non dovrebbe essere una fotografia lesiva, un genere fotografico lesivo, ma un enfatizzare, un raccontare la realtà come sta. Quindi nel ambiente naturale della strada, nel movimento, il consiglio è di cercare situazioni in cui ci sia tanta gente in giro, proprio per essere notati il meno possibile. Il cogliere l'attimo, il cogliere la situazione reale, l'espressione vera e spontanea è favorita proprio dal fatto che molto movimento di persone ci rende meno visibili, se ce ne sono quattro in giro naturalmente ci vuole niente perché se ne accorgano, si rigidiscano, si girano dall'altra parte, potrebbero anche arrabbiarsi. Quindi alcune tecniche per fronteggiare questo tipo di fotografia, che per tanti è veramente una passione, è proprio una sorta di caccia, di ricerca di personaggi interessanti che abbiano certe caratteristiche e naturalmente ci colpiscono. Per gli scatti che vedrete successivamente nel seguito del video ho utilizzato due ottiche, due zoom. Un zoom corto, un 10-20 per riprese molto grandangolari, quindi ravvicinate al soggetto che viene descritto, proprio grazie alle caratteristiche del grandangolare, viene descritto in un'ambientazione cittadina. Ho usato diverse tecniche e ve le illustro in poche parole. Una la prima, che non ha niente di fotografico, ma che può aiutarci a essere meno notati, a essere più accettati, è quella di tenersi appresso una mappa della città, anche se non è la stessa. L'importante è che si vede, che spunti dalle tasche e che ci faccia sembrare più turisti, quindi più accettati perché portiamo una macchina fotografica che è considerata invadente, anche se adesso si fotografa in continuazione con tutto, specialmente con i telefoni, ci sono spesso persone che scattano in giro per strada, siamo più abituati a vedere riprese continuamente, però con certe attrezzature, quindi reflex e obiettivi vistosi, se ci camuffiamo un po' più da turisti, può essere che veniamo meglio accettati. Ho lavorato con il grandangolo per riprese naturalmente ravvicinate, con una focale così corta è importante avvicinarsi molto al soggetto perché sia sufficientemente in primo piano. Quello che ho fatto spesso in questi scatti è di non portare la macchina all'occhio, quindi di scattare o con la macchina rivolta verso un soggetto che veniva verso di me, oppure da fermo a soggetti che mi passavano vicino, però senza portarla all'occhio. In questo modo diamo meno nell'occhio, non sembra che stiamo per fotografare. Usata in AV, quindi priorità di diaframmi, questo perché non ho tempo di regolare tempi e diaframmi manuale e potrebbero scapparmi delle situazioni, considerando anche il continuo cambiare della luce in base a come ci si sposta. Una sensibilità di 1600 ISO, è questo per garantirmi tempi di scatto veloci, velocissimi, con un diaframma abbastanza chiuso, un intermedio F8-F11 sono l'ideale per avere sufficientemente profondità di campo. Non ho usato l'autofocus, questo perché non portando la macchina all'occhio non riesco a valutare se il soggetto è nella zona centrale dell'obiettivo e quindi per riuscire a garantirmi la messa a fuoco ho prefoccheggiato a un metro, io qua ho una scala delle distanze, per chi non ce l'ha, quello che si può fare è prima di scattare, fissando un soggetto a circa un metro di distanza, usare l'autofocus per mettere fuoco a quella distanza e poi spostare il selettore dell'autofocus in manuale. In questo modo rimane bloccata la messa a fuoco a un metro e con le focali corte, come può essere questa, ma anche un po' più lunghe, quindi anche il 28 mm, il 18 mm, anche il 35 mm possono garantirci una sufficiente messa a fuoco e profondità di campo. In questo modo, se io tengo la macchina muovendomi, quando il soggetto o mi avvicino al soggetto è circa un metro, quindi visivamente calcolo questa distanza e avendo prefoccheggiato, considerando la larga ampiezza del grand'angolo, non faccio altro che scattare e quindi mi garantisco una profondità di campo, la messa a fuoco che dovrebbe comunque azzeccarci circa un metro di distanza e naturalmente la distanza di un metro mi permette di avere il soggetto che riempie abbastanza il quadro. C'è molto scarto, quindi ci saranno tante foto che non vanno bene, non sono venute bene, magari decentrate o troppo tagliate o anche mosse. Avere utilizzato una sensibilità di 1600 ISO, anche se in pieno giorno, è stata una scelta proprio per garantirmi tempi di scatto abbastanza veloci e limitare il problema del mosso, proprio perché non ho la stessa stabilità che avrei portando la macchina all'occhio. Poi comunque ho fatto degli scatti anche guardando letteralmente nel mirino, avvicinandomi a quelle persone che non si accorgevano della mia presenza, magari di profilo, leggermente di tre quarti, oppure perché è attente a fare ad altro, proprio perché mi sono mosso in un ambiente, in un'ambientazione in cui c'era tanta gente che girava. Non abbiamo bisogno di andare in luoghi esotici, per forza possiamo fare esperienza anche nella nostra città, anche se saremmo camuffati da turisti. Altro suggerimento sulle impostazioni della macchina, la risoluzione sarà quella che ci interessa avere, quindi il RAW sarà una scelta per chi lo usa. Non ne ho, il bilanciamento del bianco era su luce solare, eventualmente si potranno fare altre correzioni in post-produzione. Altra tecnica che possiamo adottare è quella di stare fermi, fermi in una posizione, magari lungo una strada, se abbiamo uno scorcio magari interessante e vediamo avvicinarsi i soggetti che ci possono interessare, iniziamo a inquadrare prima, quindi a preparare un'inquadratura con il nostro zoom per quella che può essere più o meno la visione del momento che abbiamo vicino, il palazzo, la strada, quello che è, e quindi mentre queste persone si avvicinano, magari stanno camminando verso di noi, già ci vedono inquadrare qualche cosa, non è detto che pensino di essere inquadrati loro stessi. E ci aiuterà il fatto che se siamo già pronti, nel momento in cui sfilano e sono a quel metro di distanza, faremo lo scatto quasi sbagliandoci come se fossero capitati all'interno del quadro dell'inquadratura involontariamente. È difficile che pensino, anzi certi si fermano, se se ne accorgono si spostano, cercano di evitarsi, ma la ripresa grandangolare abbraccia un bel campo e fa rientrare spesso persone che non credono di essere inquadrati. Ripeto, non deve essere una fotografia lesiva, non deve essere un rubare immagini in situazioni in cui andiamo a ledere l'immagine di una persona, però è proprio la ricerca della spontaneità nelle azioni delle persone e nelle espressioni. Poi ho fatto altri scatti usando un 70-200, questo mi permette di riprendere a distanza, quindi di essere meno invadente, meno vicino ai soggetti. Usare un obiettivo così ci rende un bel po' visibili, quindi ho da montato, ho parla luce montato, e quindi conviene magari essere leggermente nascosti o riparati da qualcosa, seduti in una posizione in cui possiamo controllare un movimento o avere un certo flusso di persone vicino. Questo avvicina parecchio i soggetti, quindi un 200 montato su una fotocamera che al formato APS diventa un 300 e ci permette di fare riprese anche a 10 metri di distanza con un soggetto abbastanza in primo piano. Qui l'unica variante che ho utilizzato, ho lasciato comunque stare le impostazioni di sensibilità, di diaframma e naturalmente di tempi di scatto, è stato di modificare il tipo di messa a fuoco. Nelle Canon, quello che normalmente è il one shot, l'ho modificato nel, come si chiama? Fammi vedere un attimo. La L servo, che è quel tipo di autofocus che insegue il soggetto, quindi se io ho bisogno di agganciare con l'autofocus un soggetto che si sta muovendo, se continuo a mantenere premuto a metà il tasto e seguo questo soggetto, oppure viene verso di me o si allontana da me, in questa modalità di autofocus mantiene il fuoco nel momento dello scatto o la certezza, oppure una sufficiente garanzia che sia a fuoco. Qui abbiamo bisogno di tempi di scatto più veloci, quindi con un 200 la regoletta sarebbe di garanzia, per evitare fotografie mosse, di usare almeno il reciproco della focale che stiamo usando. Esempio pratico, su un 200 almeno un duecentesimo o superiore. Questo ci aiuta a limitare il rischio di fotografie mosse. La differenza sugli scatti è se con un grand'angolo la ripresa è descrittiva di quello che è l'ambiente, con i teleobiettivi invece diventa molto più stretto l'angolo di campo e molto ridotta la profondità di campo, quindi avremo ritratti più stagliati e sfondi più sfocati. Quindi un'ambientazione diversa, a volte addirittura quasi cancellata da ciò che distinguerebbe lo sfondo.